Ciao. Giorgio. Ah, già finito. Eh, veloci come Fastweb. Adesso a casa e qui a lavoro, non ci ferma più nessuno. Magnifica, eh? Lot number 327. The bidding will open at 300,000. Please. 700,000 going once, going twice. Sold to the gentleman. Il furgone è vuoto ad avanti. Controllate dentro. C'è un guimento sopra. C'è un guimento che c'è un piatto che c'è. It has to be here! You're 60,000 short. Tell me, how the fuck are you gonna come up with 60,000 the next hour? Please. Yo, well, Mr. Giovanni can't wait anymore. He told me to cut you a deal. You hear that? Oh, yeah. I understand. I understand. Now, hear this. Do you know what I did before I got this recording studio? Look, Carlotti, you ain't that deep. What? Listen, listen. And come Mr. Carlotti from now on.